Musica A Naukiaia, giù comune del Castello Puro, a si stadio nuovo che hanno a fravicare il suo vicino di Santelli e dedicato a Gigi Riva. Il suo costituzione comunale è stata approvata su un'animità di libera che per toccare l'accordo del programma, avvergare l'accordo della giunta regionale. A posto di messe delle polemiche secundi, il rasano sbloccava il schimbante a milioni che ha posto la regione per il suvravico. Il suo sindicato è stato approvato su un'animità di libera come un bicchiere su via libera del suo provvedimento autorizzativo unico regionale e l'approvazione del suo piano economico-vinanziario. Fatto questo, è stata pubblicare il suo bando del gara, per il suo vravico e l'impianto nuovo, atta aere e vinti chimbe e mizia a posto, schienza la possibilità di arrivare a 30 mizia, però poter ospitare l'osio europeo. Ma non batta esse spezzi vubalu, a furrio dei stadi, usata a facerono un parco sportivo e culturale aperto tutto l'anno. Su centro-destra, ha fatto il suo secondo addobio in Castello, innanzitutto dare a schiera a maniera ufficiale il suo nome del suo candidato a presidente della regione. Salinia dei Salvini, il squadro a chi vinca e non mudata, ha appreso manco convinto. A Fratelli d'Italia, Forza Italia, il Diciri, il formatore del grande centro ed è a Sardegna. In sotto il flora, fin presente il mescamente, il rappresentante del suo spartito, sprosegliare il tema di compartire il suo territorio. Prova a vedare il suo programma a questa legislatura inveniente e a barrare il comparto. Salega, rappresentata da Ivan Cermelli, ha sottolineato l'importanza di tornare a partire da Esolinas, che è resissi a parare avronti a questa emergenza in una legislatura che è stata condizionata da questo Covid. Grazie in Bezza è a sinistra e si è taccampo rinascita a Sardegna. Protagonista, il sindaco del quarto, Graziano Milia, che è sottolineata. Non ha tessero un partito nuovo e manco una corrente nuova. Vata essere un usozio culturale che nasce e chi sa punna di avviare un percorso di elaborazione programmatica di proposta e contributo dell'EASA. S'appuntamento è sprocrasa s'aschimbe mesi in Castello. Tata rivestata a Santo Nicola su santa Amparador e desa città è una dia e notta che da esempio vi è sa cittadinanza partecipando a sa manifestazione esorganizzata al mescamente preso spizzinnoso. Custusero in sa sia dedicata a Santo Nicola a Mussennogia a Franco Zabba a nausa missa solenne che in suo sparra a cordesa città e a tisseperà questa dia e notta prodare un messaggio a sa città e a suo territorio. a cabada a sa missa che in sa doda desa Santo Nicola che amparava a te azzudava sospovero scustano pur si rinnova sa tradizione de donare a tre rzovanasa un azzudu economico prosico iubare. Un nuovo percorso de duormeses che sta cabaco in sa elaborazione de duos progettos artistico su presa sostenibilidade premia scustu manzano in sa sala consigliare desu comune di Nugoro. Siamo urfa vedando des eco contest su concursi presa siscola superiore e nugorese schia bidus osi studenti in pinnaur facendo elaborau artistico schi materiale e trastor dei scartu. Sorvinchidore sono duos classe squinter desi ticchironi e desi istituto ciusa. Su progetto vittisambito desa riciclia desi deauda desa cooperativa alternatura e sostenio desu comune de Nugoro fondazione desa Ardignia e soziedade e comune. S'istituto ciusa proposto nuoro vivere la città mogende desu meledu su presa responsabilidade desa persone rispetto a sollocor desa città desu visi socializzata prusannotu pratasate giardinetto il spazio sculturale suve a uva cudi sa zente ma chiusun prenor d'arga ed è graffito schibrutan sur muroso Siti Cicchironi ha presentato un progetto aduvisivo che meleda su presa sconsicchienzia socio-economica e ambientale desa moda l'estra chidura pacu uno dizionario sardus in iscoleso per non rimenticare esce in questa idea che vi ha pubblicato un dizionario sardus in iscoleso italiano per registrare la paragonia del suo vero locale che esorzava nessun perdente e per imparare uno desorbenese immateriale spruz in pericolo che legava a nodo morto a smudamento sociale politico economico e culturale su sardu che in sus ultimos anno ha subito una avverta o mai recuperabile io ho deciso di iscrivere questo dizionario che ricorda le parole antiche intervistando questo vincere le persone che vivendo in sin scuola che succedono a nuova generazione a mano a mano andando come sono perdendo le parole antiche e usano questa moderna e i anziani tenendo una curpa su per questo invece di currezere il giovano e narrare piscina non si narra questa parola e anche piccano e ripeto in italiano se ballano e questo giusto che si perdono la antica sarda e io non risulto che un popolo che perde la propria limba perde la propria identità che per un